Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Margherita e frequento il secondo anno del corso di laurea magistrale in scienze e tecniche della comunicazione. Perché l'insubria? Sicuramente per la vasta scelta formativa, i seminari, i laboratori e la possibilità di fare Erasmus. In questi cinque anni mi sono costruita un piano di studi ad hoc per quelli che saranno gli obiettivi post lauream. In più, i rapporti con i docenti e con i professori sono sempre stati stretti e professionali. I docenti sempre pronti a chiarimenti e vi dico la verità, ho passato davvero tanto tempo in università. Non mi pento assolutamente della mia scelta e ricordatevi che anche in questo momento di emergenza è importante scegliere quello che sarà il proprio futuro.